Lina, raccontaci un aneddoto che ti è rimasto più in mente dei tuoi anni scolastici alla Dante. Allora, io intanto ho frequentato la Dante negli anni 75-76, quindi spesso avevamo anche come supplenti degli insegnanti che avevano fatto anche il 68. E' un aneddoto particolare, una volta ci è capitata un insegnante che ci ha fatto fare una cosa estremamente trasgressiva per l'epoca. Ad esempio ci ha fatto sedere, anziché sulla seggiola, sui banchi, abbiamo messo tutti i banchi a ferro e di cavallo, e anziché fare la storia tradizionalmente intesa, dovevamo commentare articoli di giornale. E quindi è una cosa abbastanza innovativa, rivoluzionaria per l'epoca. Bene, ti ringraziamo per la tua testimonianza e buona continuazione. Grazie, grazie, grazie. 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 Grazie.